Ci troviamo qua, siamo nella zona della piscina Parco della Pace per segnalare una problematica che riguarda una via adiacente, una via anche senza nome che è sempre più in stato di degrado. Questa è una via interna che si utilizza molto bene in quanto può evitarti la strada adriatica e nello stesso tempo in questi ultimi anni è sempre più disastrosa perché ci sono buche veramente molto pericolose. È la via che è il prolungamento di via Palmanova perché effettivamente nome non ce l'ha, costeggia dei palazzi e la proprietà della team, l'ingresso lì della team. Viene utilizzata perché è una via d'uso pubblico per cui viene utilizzata da biciclette e macchine per raggiungere Soria in modo interno senza utilizzare appunto la strada adriatica e ci sono sempre state molte buche che sono state anche negli anni un pochino rattoppate però poi adesso si è creata veramente la situazione più importante perché con le piogge violenti che ci sono state anche questi mini rattoppi hanno creato le problematiche che si vedono. Queste buche molto pericolose in bicicletta si cade sicuramente addirittura da problemi anche con le macchine perché se la prendi senza accorgertene in macchina o comunque se è bagnato e non vedi il livello della buca ti si può rompere sicuramente una gomma. Una vostra ipotetica richiesta quale sarebbe? Di fare in modo che venga sistemata, venga bene asfaltata perché tra l'altro appunto è di uso di tutti. Tante volte si passa qui con i ragazzini, con i ragazzini piccoli, con le bici per cui è importante che venga risistemata a dovere e vedere chi può farlo insomma. Già però in questi anni è stata fatta qualche richiesta da parte vostra, a chi e come è stato un po' compensato questa richiesta? Sì, noi ci siamo rivolti innanzitutto al comune per sapere, per sistemare appunto questa situazione e il comune ci ha detto che la proprietà non era la loro ma risulterebbe di proprietà della team e comunque qualcosa è stato fatto perché quei rattoppi, alcuni rattoppi veloci sono stati fatti e nello stesso tempo ci hanno dato anche la luce, l'illuminazione perché prima era veramente, era buia completamente.